Adoro te, fonte della vita, i miei calzari leverò su questo santo suono, alla presenza tu amico spero. Buona Pasqua della settimana, carissimi amici e amici di Abitare le scritture, di Misericordia televisione, di Telediocesi Salerno e di Radio 101 City di Eboli e siamo arrivati ormai siamo al 16 giugno, siamo alla undicesima domenica del tempo ordinario in questo ciclo B nel quale leggiamo il testo di Marco e lo approfondiamo. E dopo l'interessante tema della settimana scorsa in cui Gesù ci ha fatto capire quanto sia importante accoglierlo, stare dentro e non fuori dalla comunità, stare intorno a lui e non fuori contro di lui, come hanno fatto quelli del suo clan, ma anche gli iscrivi che non lo accolgono. Insomma ci giochiamo tutto nel rapporto con Gesù. E oggi il testo, preso dal famoso capitolo quarto, che inizia meravigliosamente con la parabola del seme, con le parabole, più parabole che parlano del seme, Gesù ci ricorda quanto sia importante l'accoglienza appunto della sua parola. Ma, innanzitutto, proclamiamo il testo. Siamo nel capitolo quarto di Marco, nei versetti da 26 a 34. Diceva Gesù, il regno di Dio è simile a un uomo che getta il seme nel terreno. Dorma, ovegli, di notte o di giorno, il seme germoglia. Poi il germoglio si allunga, come egli stesso non lo sa. La terra produce da sola prima lo stelo, poi la spiga, poi la spiga carica di grano. Quando il frutto lo consente, subito si mette mano alla falce, perché il tempo della mititura è giunto. Poi diceva, a cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale altra parabola lo possiamo esprimere? Avviene come per un granero di senapa, il quale, quando è seminato nel terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono nel terreno. Ma una volta che è stato seminato, cresce. Diventa più grande di tutti gli arbusti e fa ramo, tanto grande che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola, nella misura in cui essi erano in grado di comprendere. Senza parabole non parlava loro, ma in disparte ai soli discepoli illustrava ogni cosa. ecco il testo meraviglioso di questa undicesima domenica e questo capitolo quarto, con i versetti da 26 a 34, viene introdotto da Ezechiel al capitolo 17, che è un capitolo che somiglia molto a quello di Marco. Racconta più o meno, piuttosto in modo analogo, l'apertura anche della parabola, perché il profeta dice che la parola del Signore vi fu rivolta in questi termini, figlio dell'uomo propone un enigma e presenta una parabola alla casa di Israele. La storia che racconta il profeta Ezechiel, grande profeta sacerdote, dice che sul monte alto di Israele, io pianterò, metterà questo ramoscello piantato, rami, farà frutto, diventerà un cedro magnifico. Tutti i tipi di uccelli abiteranno sotto di esse e tutti i tipi di volatili riposeranno all'ombra dei suoi rami. Poi la conclusione di questa parabola, dove c'è il messaggio centrale, dice che tutti gli alberi dei campi sapranno che io sono il Signore che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e rinverdire l'albero secco. Io, il Signore, ho detto, io faccio. Bellissima questa pagina del profeta che annuncia, prepara questa bella pagina di Marco. Perché è così importante questo capitolo quarto di Marco? Perché è la prima volta che non si dice solo Gesù insegna, insegnava, spiegava la parola di Dio, non c'è mai il complemento oggetto, fino al capitolo quarto, perché Marco riserva in questo capitolo l'oggetto dell'insegnamento di Gesù. Gesù insegnava loro con molte parabole, questo modo di raccontare che è pieno di immagini. Gesù è venuto a predicare il regno di Dio e lo fa con le parabole, che sono dei paragoni continuati, dei racconti, con delle immagini molto suggestive, molto colorite. Qui proprio, nell'immagine che viene data all'inizio, c'è questo seme che cresce silenzioso, da solo. Che cosa vuole dire Gesù? Beh, quel seme rappresenta il regno di Dio, che ha in sé la forza di crescere. Come ha detto il testo, sia di giorno, sia di notte, o che il seminatore dorme o stia sveglio, non dipende più dal seminatore. Questo seme che ha in sé la forza interna, per cui il seminatore poi diventa inattivo. E notate che Marco descrive sei tappe di questo seme. Innanzitutto germoglia, si allunga, presenta lo stelo, poi viene fuori la spiga, poi il chicco pieno e alla fine viene il frutto. Sei tappe, 7-1. Appunto non sono ancora alla perfezione, perché l'ultima azione è quella della mietitura. È la mietitura che dirà davvero quanto seme ha prodotto quella spiga. La terra non è solo lo spazio che permette al seme di crescere, ma diventa il luogo accogliente o meno di questo seme. Anche la terra ha un'energia vitale. Anche la terra permette al seme che ha in sé la forza di svilupparsi. che vuole dire il Signore Gesù fuori dalla metafora, sta dichiarando una verità per tutti quanti noi, per la nostra vita. Diciamo che siamo nelle abili mani di Dio. Dio ci trascende. Dio lavora per la nostra vita, anche quando noi non ce ne rendiamo conto. Ecco il seme che sta sottoterra, sembra che dorma, che sia non presente, ma sta germogliando. Questa realtà è fondamentale per comprendere il Vangelo. Bisogna avere fiducia che Dio Padre lavora sempre per noi, che è un Dio amorevole, crea e provvede sempre ai suoi figli. E il seminatore poi diventa mieditore. E qui l'immagine del profeta Gioele, quando indica il giudizio, la vittoria finale, si manda alla falce. Quest'immagine così strana sembra quasi una falce senza una mano. A indicare che cosa? Beh, quella falce raccoglie e provvede al raccolto. Cosa vuole dirci Gesù? Che proprio il Padre attraverso il Figlio, perché Gesù è il seme della Parola e anche il seminatore, è venuto per portare a compimento il progetto del Padre, per arrivare alla vittoria. Sembra che risuoni in noi, che risuoni in noi esattamente la storia di Isaia 55. La parola che scende dal cielo non torna a noi senza effetto. Ecco perché la parabola successiva, quella del seme di senape, che è seminato piccolo, poi diventa grandissimo. Infatti Gesù chiede a cosa possiamo paragonare il Regno di Dio, con quale parabolo lo rappresenteremo, e prende il piccolo sebe di senapa o senape, che è seminato piccolissimo. Pensate, dieci volte più piccolo di un granello di sabbia. Ma lasciate che cresca, fa alberi che arrivano anche a 4-5 metri di altezza. Quasi a dire che il Regno di Dio viene seminato piccolo e quasi invisibile nella terra. Ma quel buon seme seminato da Gesù, è ricevuto da noi, ecco il mistero pasquale, porterà molto frutto. È piccolo quel seme, sembra destinato a non portare frutto, invece no. No, per quanto ci siano forti violenze e oppressioni, quel seme ha in sé la forza. E diventerà un albero grande, sarà fonte di vita per i credenti. Gli alberi sono così grandi che poi gli uccelli ci fanno in rido. Siamo di nuovo in quella parabola di Ezechiele 17. Che vuole dire il Vangelo oggi a noi? Che è essenziale questa fede nel piccolo seme. Perché Dio porta i semi nella terra, non pianta alberi. Dio parte dal piccolissimo, si semina piccolissimo e poi, dopo che è cresciuto, si arriva a una realtà enorme. Il Regno di Dio è così. Non è come la logica del mondo che presenta le cose grandi. Pensate a quelle pubblicità di panini enormi. Pensate ai nostri grattacieli. Noi pensiamo di fare le cose in grande, la grandezza è nel piccolo, è in quello che sembra che non porti frutto. Il Regno di Dio si presenta così, quasi a volersi dare il senso di fiducia. Dio non fa clamori, non fa baccano, non pianta foreste, mette seme. Ma in quel seme c'è tutto. Pensate a come siamo nati noi, da quel piccolissimo e microscopico sperma di papà, di quell'unico spermatozoi, di quell'ovulo di mamma. Non si vedeva nemmeno a occhio nudo. E poi viene fuori il miracolo della vita. Ecco, Dio è così, a partire dal piccolo seme. La realtà del Regno, cioè la presenza di Dio, è misteriosa, sfugge ai nostri parametri, trascende tutte le nostre realtà. Ecco perché l'Evangelista poi sottolina la comparazione. Si semina piccolissimo, poi cresce, si raccoglie nell'abbondanza. Notate che i due tempi importanti sono l'inizio e la fine. Si semina piccolissimo, ma poi si raccoglie nell'abbondanza. Il seme del Regno addirittura raggiunge dimensioni inimmaginabili. Però vedete, anche la Terra porta avanti un po' il suo ruolo. Anche la Terra ha un ruolo importante nella parabola. Notate che Marco, al capitolo 4, nei versetti 31, la cita per ben due volte. La Terra continua a essere il luogo dove si realizza il passaggio dal piccolo seme alla grandezza dell'arbusto. Qualche anno fa, durante la pandemia, nella mia fioriera, apparve un piccolo stelo. Mi sembrava molto strano. L'ho raccolto, a me piace molto, l'ho raccolto e l'ho ripiantato in un pezzo di terra più grande. Dopo due anni e mezzo è un albero gigantesco. È un albero cinese chiamato il legno d'acciaio. È talmente cresciuto che ha un fusto adesso enorme. In due anni e mezzo fa un'ombra meravigliosa. In primavera fa dei fiori viola. Vedete, chi l'avrebbe mai immaginato? Ha qualcosa, uno stelo piccolissimo, il famoso legno d'acciaio per fare strumenti musicali e anche i mobili. Un fusto fortissimo, ha messo radici nel profondo. Ecco, così è il regno di Dio, no? E la Terra è importante perché la Terra deve essere accogliente, non sterile. Per cui è bello questo gioco tra il seme che è la parola e la forza di Dio e la Terra che è la nostra accoglienza. Vedete, viene fuori sempre una relazione. Credere e toccare, dicevamo l'altra volta anche, no? E entrare in relazione. Dunque, non è in discussione la forza del seme. Ma qui c'è il problema della capacità degli uomini di attesa, di accoglienza, di portare frutto. Siamo chiamati a esercitare la pazienza, la speranza, insomma, ad essere fiduciosi. Per cui Gesù ci dice, non vi stupisca la piccolezza dell'inizio. E pensate, Gesù, dove è andato se non in quei pochi territori della Palestina? Eppure il seme della sua parola ha raggiunto il mondo intero. Quindi non dobbiamo lasciarci scoraggiare dalla piccolezza dell'inizio. È la logica di Dio. Ma quel seme non può non crescere. Arriverà il compimento, inatteso e triunfare. E allora gli uccelli troveranno ombra su quei rami. Così noi, nel tempo della Chiesa, noi siamo chiamati come Gesù a deporre il seme, sapendo che poi Dio lo farà crescere. Pensate quanta gente è rimasta convertita da quella parola. Ho conosciuto anche un ergastolano che in carcere ha conosciuto la parola e dopo trent'anni di carcere ha avuto una rivoluzione interiore. Il seme ha portato frutto. E' stato seminato attraverso persone che facevano catechesi nel carcere. Oggi è un uomo credente. Un uomo che ha rinnegato il suo passato. Un uomo tutto diverso. Ecco perché ci è chiesto oggi, nel tempo della Chiesa, ci è chiesto l'impegno, la ricerca, l'accoglienza della parola. La parola ci sorprende. È come questo personaggio. La parola può convertire davvero il cuore, ma c'è anche un cuore che deve aprirsi, anche se appena appena, un po' come succede in quelle vecchie finestre quando c'è un piccolo buchetto e c'è tutto chiuso, ma da quel buco un raggio di luce entra e poi si espande. Ecco il dinamismo della parola. La parola porta davvero frutto. Quello che vuole dirci Gesù oggi alla comunità cristiana dobbiamo davvero ricordarci che ci sorprende continuamente. C'è una dinamica che ci sorprende continuamente. Ecco perché è Gesù, la vera parabola, Gesù che è quel seme che si dona a tutti e noi dobbiamo accoglierlo, dobbiamo davvero farlo nostro. Noi non dobbiamo pensare che quel seme sia una piccola cosa. Si presenta in modo piccolo, ma dobbiamo avere quello stupore di aspettare, quella pazienza di vedere poi il frutto, perché il regno di Dio arriva e quando arriva davvero ogni cosa germoglia e diventa davvero la grandezza di Dio nel piccolo, la grandezza di Dio nello stupore delle piccole cose, perché la logica di Dio è proprio questo, stupirci nel piccolo. Dobbiamo avere pazienza in relazione con Lui aspettando che il buon seme, anche se così piccolo, porti frutto. Buona Pasqua della settimana! Shalom! Ringrazio e prego che il mondo ritorni a vivere in te.